Prima di morire, la madre di Louis Domlinson ha detto al figlio di fare pace con Zion Malik. Il cantante 25enne non parlava con l'ex compagno di band degli One Direction da quando quest'ultimo aveva lasciato il gruppo musicale nel marzo del 2015, ma è stato spinto a riprendere i rapporti quando Joanna Deakin, che è morta di cancro nel dicembre del 2016, l'ho avvertito che la vita è troppo corta per tenere il muso. Mia mamma mi ha detto, devi riprendere i contatti con Zion, la vita è troppo breve, l'intuizione di una mamma è pazzesca, mia madre sapeva sempre cosa stessi provando e cosa volessi, non riesco a tenere il muso con nessuno, se c'è un'incomprensione meglio chiarirla, l'ho incontrato ed è stata una cosa carina, ha raccontato Louis.